Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta con Tele4. Come abbiamo detto avremmo ricominciato ufficialmente oggi la nuova stagione che sarà, come più volte abbiamo ricordato, quella più importante per tutta la città, per la piazza di questa città che ufficialmente ormai è diventato lo studio di Ring. Qui si confrontano tutte le forze politiche, qui hanno spazio e voce tutti da sempre per dire quella che è la propria opinione ed è la stagione che ci porterà, come sapete, al voto del prossimo maggio, quello che è dato sapere, per la guida del Comune di Trieste. Non potevamo non iniziare questa stagione insieme al sindaco, quindi buonasera, ben trovato Roberto Cosolini. Buonasera a lei e ai telespettatori. Come sta? Se le chiedo prima cosa, come sta? La vedo un po' più sereno rispetto a qualche giorno fa, settimana fa forse può essere, no? Ma direi che io sto bene, cerco di stare bene normalmente, quindi sono una persona da questo punto di vista ritengo serena e positiva, poi ovviamente ognuno di noi nella vita ha i suoi alti e bassi, ma tendenzialmente io sono una persona che riesce a stare abbastanza bene, anche perché è convinto delle cose che fa. Le chiedo una cosa, si è sentito in qualche maniera nel mirino, al di là di quello che può essere o può sembrare un dibattito normale, anche per tenere vivace l'attenzione su una parte politica piuttosto che l'altra? Molto chiaramente le chiedo, si è sentito sotto attacco negli scorsi mesi? Anche all'interno del suo partito? No, io non ho trovato questo atteggiamento, anche perché credo che sia ormai di tre mesi fa la seduta dell'assemblea provinciale del mio partito che all'unanimità aveva approvato un documento per la mia ricandidatura e conseguentemente non ho mai avuto problemi di questo tipo. Trovo anzi una convinzione, un buon clima, abbiamo verificato anche in questi giorni con una serie di iniziative pubbliche, un buon clima evidentemente per questo rush finale di mandato in cui dobbiamo raccontare bene le cose che abbiamo fatto e terminare di farne alcune, dobbiamo anche raccontare quello che vogliamo fare se i cittadini ci daranno fiducia nei prossimi 5 anni. Ha visto scenari politici, se non ricordo male il sondaggio di qualche ora fa dava Lega, anzi Movimento 5 Stelle e Lega fortissimi in Regione. Ma guardi, ho visto quei dati, mi sono sembrati francamente curiosi e le dirò la verità, i sondaggi più vengono pubblicizzati meno solitamente sono affidabili, i sondaggi più affidabili sono quelli che evidentemente vengono valutati per il risponso che danno e per le indicazioni che danno su come lavorare da chi li commissiona, che in questo caso ha tutto l'interesse, meno che andarli a strombazzare i 420. Sto cerchendo di interpretare, ho capito. Senta, però il fatto che il partito... Interpreti? No, 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 il fatto che il partito democratico sia un po' sceso inevitabile, rispetto a quel 40,5%, cioè quel 41% dell'Europa è quello... Beh, quello è un risultato straordinario che deriva evidentemente da un momento eccezionale anche dell'immagine di Matteo Renzi, della capacità di Matteo Renzi in qualche modo di interpretare la domanda di cambiamento del nostro Paese. Poi subentra una fase di governo e si sa che la fase di governo di questi tempi di fronte alla crisi e di fronte ai tanti problemi che vanno affrontati spesso nell'impazienza della comunità, dei cittadini, in particolare dei soggetti delle categorie più deboli, evidentemente mette a dura prova il consenso e quindi un calo rispetto a quel tetto raggiunto dal PD in questa fase lo considero fisiologico. Molto si giocherà poi alle diverse scadenze, perché poi c'è il governo nazionale, c'è il governo regionale, c'è il governo della città, molto si giocherà evidentemente alle diverse scadenze da quello che gli elettori percepiranno nel momento in cui dovranno decidere. Però arrivano tutte dopo il 2016 quelle? Arrivano tutte dopo il 2016. Almeno il governo, non so se lei ha notizie differenti, ma il governo arriva dopo. Arrivano tutte dopo il 2016, certo. La prima è quella del 2016 ed è quella che mi riguarda abbastanza da vicino. Senta Sindaco, in questo momento è un traino Matteo Renzi? Continua a esserlo? Perché sa che comunque al di là del calo nei consensi, nel grandice di gradimento, ma quelle sono cose anche fisiologiche dopo un certo tipo di interventi e dopo un tot di mesi. In questo momento è ancora un traino per il PD e per chi andrà al voto? Io credo che Matteo Renzi mantenga sostanzialmente inalterata una sua forte carica di rinnovamento. Quando parlo di rinnovamento intendo in due ambiti ben diversi. Da un lato in quella che è l'azione di governo per la modernizzazione del Paese e d'altro lato intendo anche in quella che è, se vogliamo, la svolta all'interno del Partito Democratico. Poi come diceva lei ci sono alti e bassi, spesso dipendono anche dai momenti, dall'emotività, dalla percezione che gli elettori possono avere di questo o di un altro momento. Però ritengo che Matteo Renzi rimanga da questo punto di vista assolutamente centrale nella politica italiana, anche perché a tutt'oggi francamente non vedo avversari in grado di competere con lui in termini di credibilità per la leadership del Paese. Forse sono più all'interno del Partito Democratico alcuni possibili nuovi leader, ma lasciamo stare, dopo torniamo sul tema nazionale. Invece le volevo chiedere più qualcosa legato ovviamente alla città. È vero che non si è mai sentito in dubbio, diciamo, torno agli scorsi mesi e soprattutto alle ultime dichiarazioni di Deborah Seracchiani. Noi abbiamo fatto vedere più e più volte quando lei a Sveglia Trieste è venuta in diretta a rispondere alle telefonate dei cittadini di questa regione e ha detto molto chiaramente non so chi ci sarà dall'altra parte, parlando degli schieramenti politici, ma per noi c'è Roberto Cosolini, non c'è dubbio. C'era bisogno di questo dibattito? Lei aveva cambiato idea da Seracchiani, cosa è successo? Allora diciamo che il dubbio bisogna sempre averlo, anzi direi che un equilibrio tra non dimenticarsi di avere dubbi talora e contemporaneamente non dimenticarsi la doverosa determinazione e convinzione nelle cose che si fanno è un equilibrio che è assolutamente necessario. Chi è troppo sicuro di se stesso e non si pone mai dubbi, mai problemi, alla fine può prendere anche cantonate grosse. Quindi il dubbio fondamentalmente che uno ha quando governa è quello di saper sempre essere all'altezza della sfida, di saper rispondere alle domande dei cittadini e di sapere evidentemente attuare quanto ha promesso di attuare. Da questo punto di vista io credo che il lavoro che abbiamo condotto in questi quattro anni mi porta a dare una risposta positiva a questa domanda. Per quanto riguarda Deborah Serracchiani, lo ha detto lei, lo aveva dichiarato ai vostri microfoni, nel dialogo fra di noi non c'è mai stato nessun problema e quindi francamente ritengo che la questione appartenga anche alla categoria dei gossip, delle interpretazioni, delle letture e talvolta anche del passaparola che finisce con l'esasperare o col distorcere qualche messaggio e che serve ogni tanto anche per riempire vuoti quando non ci sono temi più importanti da affrontare. Quindi per quel che mi riguarda il sostegno di Deborah, con cui ci sentiamo periodicamente, lavoriamo insieme, come si è visto lavoriamo per il Porto, per il Porto Vecchio, per tante vicende che riguardano questa città, è un dato assolutamente importante, anche perché è importante che la città possa contare su un clima di collaborazione istituzionale con la regione e con il governo, però guardi che la cosa più importante per me, anzi oserei dire, alla fine è l'unica che conta per chi ha fatto il sindaco e si candida a rifare il sindaco e il voto dei cittadini. Ecco tutto il resto... E torniamo al sondaggio di prima, che diceva prima. Sì, ma... Cosa dicono questi sondaggi? Beh, lei mi ha parlato di un sondaggio, io prendo atto di quello che mi ha detto. Sono sicuro che anche lei ha dei sondaggi, dai, in mano, no? Ma diciamo che di questi tempi... È troppo presto? Di questi tempi io credo che i sondaggi servano più a capire quali sono le priorità per l'opinione pubblica e quali sono evidentemente le criticità a cui bisogna dare risposte e credo che servano molto meno a capire cosa tra sei mesi, otto mesi o tra un anno o fra due anni potrebbero decidere di votare gli elettori. Quindi se dovesse fare un sondaggio adesso tra i suoi cittadini cosa chiederebbero? Strade ordinate o marciapiede sistematiche o sicurezza? I cittadini vedono come priorità numero uno quella della ripresa economica e quindi della creazione di posti di lavoro e delle prospettive di lavoro. Guardi, questa è la priorità numero uno. Ma mica lo fa un sindaco questo, no? No, ma stiamo parlando di quali sono le risposte che i cittadini chiedono alla politica. Poi vede, come lei sa, i cittadini vedono nel sindaco la prima più vicina risposta delle istituzioni e della politica. E quindi si rivolgono al sindaco per tutto, anche per ciò che va ben oltre i poteri del sindaco. Lo sappiamo, succede quotidianamente che un giorno possa essere il parco di Miramare o possa essere un'operazione che trasferisce la proprietà di un'azienda triestina dal gruppo Alcatel-Luscent al gruppo Flextronics. Alla fine ci si rivolge sempre comunque al sindaco. Quindi nell'elenco delle priorità, dei problemi che in questo momento inquietano l'opinione pubblica e sulla quale perciò si vogliono risposte è sicuramente il lavoro. Poi inevitabilmente è cresciuto il tema della sicurezza collegato anche, per certi versi, impropriamente. Ioamente sa che sarà comunque tema della campagna elettorale, cioè lei sa che alla fin fine c'è il lavoro, ci sarà la crisi sicuramente, anzi speriamo che in qualche maniera in questi mesi qualcosa possa migliorare, ma ci sarà l'accoglienza, perché da qui in avanti i dibattiti più duri saranno su quelli, poi ci arriviamo, però ci sarà il tema della sicurezza, insomma quando anche nei giorni scorsi abbiamo raccontato di questa violenta rapina, insomma i pestaggi di quest'estate, insomma queste cose le abbiamo raccontate, lei ha sempre ribadito, dati alla mano che la città è più sicura di altre. Detto anche nei nostri sondaggi in strada, questo lo dobbiamo ricordare. Io ho ribadito anche qualcos'altro che poi è corroborato dai fatti, oltre che dalle mie affermazioni, ovvero che c'è una presenza delle forze dell'ordine, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale intensa sul territorio che ad esempio nel corso di questa estate ha dimostrato una tempestività e un'efficacia negli interventi che sono la miglior garanzia per la sicurezza dei cittadini. Perché vede, l'aggressione c'è sempre stata, la rissa c'è sempre stata, la rapina o il tentativo di rapina c'è sempre stata. Le risposte che dobbiamo darci rispetto alle domande principali sono fondamentalmente le seguenti. La prima è significativamente in aumento la tendenza ai reati contro la persona, le statistiche dicono di no. È una tendenza comunque che sfugge al controllo e alla capacità di intervento delle forze dell'ordine e degli organi inquirenti e io direi che da questo punto di vista anche possiamo rispondere che l'intervento è sufficientemente tempestivo ed efficace. Il che non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, la sicurezza è un bene talmente importante perché alla fine fa parte di ciò che contribuisce a creare un clima di serenità e di coesione civile nella comunità che non esiste una condizione ideale nella quale si abbassi la guardia. Perciò non deve abbassare la guardia al prefetto, non deve abbassarla al questore, non deve abbassarla al comandante dei carabinieri e non l'abbassa nemmeno il sindaco con la polizia locale ancorché, se vogliamo, meno responsabile degli altri soggetti che ho citato dell'intervento su quelli che possono essere... Però il primo preso di mira, come diceva lei, no? Le situazioni penali, quindi la guardia non si abbassa, da qui a drammatizzare il problema però ce ne corre e ce ne corre anche a cercare di indurre l'opinione pubblica a credere all'equazione profughi uguale maggior insicurezza, uguale maggior delinquenza perché qui siamo proprio fuori strada. Cosa che credo abbiate ribadito proprio anche questa mattina in una conferenza stampa, insieme a tutte le associazioni, chi gestisce poi l'accoglienza, c'era anche Schiavona dell'ICS, insomma quindi che cosa succede da qui in avanti? Perché non è più un'emergenza, mi è sembrato di capire, ormai si è cristallizzato questo fenomeno, sta crescendo... Da qui in avanti noi dobbiamo partire dal presupposto che noi siamo di fronte a una crisi epocale, rispetto alle quali io credo i principi ispiratori di un'azione delle istituzioni e della comunità sono il non potersi sottrarre ad una responsabilità etica e civile, ovvero di aiutare chi in questo momento sta soffrendo... Chi scappa da guerra... Chi sta fuggendo da guerre, da distruzioni, da torture, da stupri, da decapitazioni e così via dicendo... E chi viene a cercare un lavoro... E questo è un fatto se vogliamo di tipo etico e di solidarietà da un doveroso realismo e per interpretare questo doveroso realismo mi permetto di fare un'immagine, c'è un muro lungo qualche migliaio di chilometri che separa gli Stati Uniti dal Messico che viene attraversato ogni notte da centinaia di persone che non scappano da stupri, distruzioni, decapitazioni, stragi scappano semplicemente dalla povertà. Allora, se quella motivazione riesce a far scavalcare i muri lei si immagini se la motivazione è molto più forte che è quella della vita di se stessi, dei propri figli, delle proprie figlie delle proprie mogli e dei propri parenti, che induce a scappare da quei luoghi di terrore, diciamo oggi come oggi sotto ricatto dello Stato Islamico, lei si immagini se qualche muro ferma. Allora, tutto ciò fa sì che questo fenomeno vada gestito e lo sforzo che stiamo facendo direi in una situazione di emergenza, perché l'essere una città sul confine ti pone in una situazione di emergenza, noi Gorizia eccetera siamo le Lampeduse di terra se vogliamo da questo punto di vista quindi qui si arriva, si può non arrivare a Brescia, si può non arrivare a Reggio Emilia, si può non arrivare a Empoli questo come la mette in crisi? Per esempio l'atteggiamento della Slovenia, che è stato più volte sottolineato perché chiaramente il primo di arrivo, a parte la Croazia eventualmente, ma dovrebbe essere la Slovenia quindi lì dovrebbero restare e lì dovrebbero essere identificati quanto la mette in difficoltà questo? Perché chiaramente se qualcuno vicino a noi chiude gli occhi li lascia passare, dopo se non deve prendere carico l'Italia E' chiaro, quello che gli dice è verissimo, è chiaro che serve una risposta anche di autorevole chiamiamola così politica europea che crei le condizioni con strumenti di indirizzo politico di moral suasion e se vogliamo anche di pressione perché tutti quanti facciano lo stesso lavoro e la stessa fatica, anche perché questo riguarda il rapporto tra il comune di Trieste o il comune di Gorizia o il comune di Udine e altri comuni riguarda il rapporto tra la regione Friuli Venezia Giulia e altre regioni e riguarda il rapporto tra l'Italia e altri stati Ho usato questa mattina un'immagine, se siamo in tre in viaggio e uno porta tre valigie alla fine l'armonia di questo viaggio è destinata a durare poco se uno porta tre valigie gli altri due non portano nessun peso quindi qui il problema di una forte guida e regia istituzionale che porti a riequilibrare il peso e la responsabilità di far fronte a questa emergenza va di pari passo Cioè dovrebbe essere Alfano, insomma, il governo Renzi a dire Slovenia Va di pari passo Così non si può fare, no? Ma a tutti i livelli, guardi, va di pari passo con l'assunzione di responsabilità Allora qui le persone arrivano, le persone vengono accolte, le persone vengono collocate come abbiamo visto con qualche fatica se superano un certo quantitativo ci sono comuni anche della nostra regione che finora si sono sottratti diciamo alla loro quota di partecipazione è chiaro che noi sosteremo e quando dico noi non dico il prefetto, il sindaco o il comune dico la città, la comunità sosterrà tanto meglio questo sforzo in condizioni di dignità per le persone che cercano rifugio e in condizioni anche di impatto sostenibile di impatto modesto per i nostri concittadini Siamo ancora a livello sostenibile? Cioè sono due per mille come adesso ha detto Alfano perché in realtà era addoppiato le quote Dove essere un profugo, diciamo, ogni mille adesso siamo o meglio uno straniero In questo momento noi ne abbiamo come noto a Trieste più di 700 È sempre quella la cifra Sì, 750 indicativamente ed è noto che fino ai 500 la capacità del sistema costruito di accoglienza diffusa che fa evidentemente riferimento a una pluralità di centri con impatto, come ho detto, assolutamente modesto se non irrilevante sulla comunità e sul territorio è una capacità che viene gestita bene il che vuol dire che bene stanno queste persone ripeto, accolte in luoghi dignitosi assistite, seguite, monitorate con tutto quel che serve accompagnate anche a percorsi di utilità sociale visto che alcuni li abbiamo impiegati evidentemente in occupazioni nell'interesse della comunità è chiaro che se superi di molto questa cifra ti trovi a dover fronteggiare quello che è successo nel mese di agosto ovvero l'emergenza del silos quindi di una collocazione che possiamo definire precaria non idonea, per certi versi pericolosa quindi 750 più oppure 750 totali? con tutti i sistemi quindi evidentemente molto dipende dalla capacità di fluidificare questi smistamenti, questi accompagnamenti verso altre destinazioni sapendo che gli arrivi potrebbero crescere e quindi anche fluidificando i trasferimenti potremmo trovarci di fronte a numeri importanti perché le previsioni che riguardano gli arrivi nei prossimi mesi sicuramente non sono previsioni rassicuranti e noi qui siamo e qui si arriva qui si arriva e sa che alcuni sindaci soprattutto del Veneto nelle ore scorse sono scesi a Roma a chiedere ad Alfano aiuto in qualche maniera sono paradossalmente i sindaci che si oppongono all'idea della Lega ma alla fine dai sindaci del force all'accoglienza sono diventati comunque dei miti oppositori per avere delle risposte comunque concrete Alfano avrebbe risposto insomma staremo più attenti faremo più rimpatri ma lei ci crede sa che i costi sono molto alti soprattutto con queste cifre e soprattutto se è vero come è vero due su tre non sono profughi ma sono appunto migranti economici come si fa a rimpatriare tutte queste persone? Beh io non posso che evidentemente sottolineare che qui ci vuole una regia sempre più forte sempre più attenta e sempre più efficiente dei processi quindi anche con una velocità di svolgimento delle parti burocratiche dell'esame delle posizioni e così via perché se no stanno qui otto mesi certi tempi non sono i tempi dell'emergenza potevano essere i tempi buoni fino a due o tre anni fa con numeri molto più piccoli non sono i tempi dell'emergenza la differenza fra me tra il collega Romoli e il collega Onsel e i sindaci del Veneto è che i sindaci del Veneto possono fondamentalmente dire a qualcuno che gli dice ti manderemo 5, 10, 15 persone in questo momento non ho come accoglierli il sindaco del comune di Triestro il sindaco del comune di Gorizia il sindaco del comune di Udine se li trovano in casa se li trovano nel filo perché arrivano lei dice se li trovano in piazza a Gorizia per questo credo noi abbiamo bisogno bisogno e lo sottolineo per fare la nostra parte con quel senso di etica della solidarietà e di realismo che dicevo prima ma abbiamo bisogno che tutto il sistema quindi prefettura, regione eccetera si supporti ma tra l'altro poi anche il prefetto di Venezia che si occupa come prefetto di Trieste per tutta la regione dell'accoglienza ha detto molto chiaramente quale sindaco mi dica di no e dopo di che io gli animando lo stesso però vabbè insomma questo è nel gestire l'emergenza una dichiarazione forte risposta flash Valmaura? che si fa? Valmaura la prossima settimana ci sarà questo questo trasferimento di un'ottantina dal Silos per dare idea molti cittadini mi hanno scritto ad alcuni ho risposto altri cercherò di incontrare nei prossimi giorni che mi chiedono perché Valmaura non è perché Valmaura perché in molte zone della città i 500 e passa di cui dicevo sono sostanzialmente una presenza stabile 80 di qua 40 di là 20 di là 30 da un'altra parte da mesi e lo sono a impatto diciamo pure assolutamente assolutamente sostenibile cioè quanti si sono accorti in termini problematici che in pieno centro in corso Italia sostanzialmente da un anno ci sono 80 80 persone che vengono ospitate questo non ha pregiudicato l'attività dei negozi o degli uffici questo non ha comportato il cambiamento di abitudini dei triestini che frequentano i bar per il caffè o per l'aperitivo questo non ha cambiato le abitudini di chi sa fare passeggiate per Corso Italia o per le vie del centro nei pomeriggi o il sabato e la domenica e allora come ce ne stanno 80 in quella zona nasse ben seguiti ben assistiti ben monitorati ce ne potranno stare altrettanti a Valmaura e credo che lo sforzo che stiamo facendo di mettere insieme le associazioni la protezione civile sottolineando che sono disponibili l'associazione Alpini l'associazione pompieri volontari l'associazione degli appartenenti all'arma dei carabinieri cioè abbiamo una risposta in termini di adesione alle esigenze di personale volontario per seguire questa situazione in particolare di Valmaura per cui mi permetto di dire che gli abitanti di Valmaura possono stare tranquilli e vedranno che il tutto sarà seguito attentamente e non darà problematiche caserma di Via Rossetti non c'entra niente giusto in tutto questo perché ormai gli hub i cosiddetti hub o regionali o comunque in altri luoghi d'Italia sono quelli caserma di Via Rossetti non c'entra niente come è noto poi sappiamo che anche caserma di Via Rossetti appartiene a questa strana categoria per cui quando non se ne parla qualcuno viene fuori con la proposta e dice si potrebbero mettere tutti quanti nella caserma di Via Rossetti perché ci si ricorda le camerate i letti a castello lo spazio anche importante qui metterlo poi quando semplicemente perché una ditta non so per quale ragione entra nel comprensorio della caserma di Via Rossetti comincia a fare dei lavori probabilmente che saranno stati lavori motivati da chissà quale altra esigenza si sparge la voce e parte la campagna politica strumentale di raccolta delle firme per evitare e pregiudicare una cosa qui il tema vero è che bisogna proporre anche soluzioni bisogna proporre anche soluzioni cioè chi attacca la politica del comune o l'iniziativa del prefetto e quindi la politica del governo o quella della regione deve proporre delle soluzioni cioè lei non vede alternative dalla Lega da Forza Italia nessuna l'unica alternativa che vedo è quella di dire sostanzialmente facciamoli rimanere dove sono però abbiamo visto che questi flussi non si fermano cioè se qualcuno vuole proporre che si fermino ai confini dica come si fa a fermare gente che scappa rispetto dal terrore e dalla morte come la si fa a fermare ai nostri confini non è possibile ricordo l'immagine che ho dato prima molto meno drammatica c'è del muro e forse ho capito la mossa che ha fatto Fratelli d'Italia nei giorni scorsi manifestando dicendo che appunto la Slovenia deve fare la sua parte come diceva è un dialogo tra governi quindi comunque in qualche maniera un appello anche da parte sua al governo Renzi su questo c'è 750 restano così aumentano e chi lo sa e chi può dirlo e chi può dirlo per questo io come dire sollecito uno sforzo di tutti perché tutti facciano la loro parte e ti resta da sostenere ancora? di più? diventa oggettivamente molto problematico come abbiamo visto come abbiamo visto già per sistemare quelli che in qualche modo hanno scelto il silos come riparo di fortuna lo sforzo è uno sforzo di ricerca difficile le soluzioni sono difficili creano comunque problematiche sul territorio quindi la nostra capacità che è una capacità che si è dimostrata forte ed efficiente direi non può essere però stressata all'infinito senta dall'altra parte chi vede? non è ancora chiesto l'ho fatto la solita domanda io torno sempre a quei sondaggi che nessuno sa che nessuno sa nessuno ha visto ma io so che lei o qualcuno per lei ha sondato diciamo dall'altra parte possibili Savino di piazza me lo deve dire lei sento fare sento fare dei nomi mi pare che che Roberti per la Lega si sia ormai candidato in modo irreversibile evidentemente ci sono state queste queste dichiarazioni queste mezze uscite riguardo la disponibilità condizionata non condizionata sostenuta non sostenuta del mio predecessore di Roberto Di Piazza si sente parlare di Sandra di Sandra Salino lei pensa quel derby di piazza di piazza Cosolini ma guardi io credo io credo lo dico senza nessuna come interpreta quell'intervista Giulio Camber quindi quel derby io vedo un derby di piazza Cosolini disse qualche mese fa ma non sta a me interpretarlo forse almeno per la sua parte forse Giulio Camber ha voluto in qualche modo spingere di piazza a venire allo scoperto cosa che mi pare sia finora venuta finora venuta parzialmente ma vede chi ha fatto il sindaco in questi anni difficili sottolineo lo faccio senza vittimismo perché penso che i cittadini possano capire i più difficili per fare il sindaco e l'amministratore locale da alcuni decenni a questa parte ciò nonostante chi ha fatto il sindaco deve avere la preoccupazione di presentare i propri risultati e raccontare come vuole proseguire l'ultima preoccupazione che deve avere il sindaco in questo momento sono gli avversari perché il sindaco deve lavorare fino all'ultimo giorno del mandato però poi ci saranno i confronti e le opportunità le occasioni evidentemente di confrontarsi la sfida con Di Piazza sarebbe sicuramente una sfida vivace e interessante e mi incuriosirebbe la sfida con Di Piazza ne sarei stimolato ho sempre detto che lo rispetto ma non lo temo lo vede come il più probabile? non so mi piacerebbe anche capire se l'onorevole Savino che finora mi pare più impegnata a una continua serie di attacchi senza proposte a chi governa rispetto al suo lavoro di parlamentare vuole scendere in campo e cimentarsi in un'elezione vera evidentemente cosa che finora parte la parentesi delle europee che però era molto decubertiana se vorremmo dire da questo punto di vista non ha avuto la possibilità di fare quindi immagino che questa sfida latenti tanto più che avrebbe anche il paracaduto e mai che le vada rimane parlamentare e poi i Roberti e poi decidano loro mi pare i 5 Stelle 5 Stelle hanno preso una sofferta una sofferta decisione sarà definitiva non lo sarà vedremo le ripeto noi lavoriamo cosa intende l'asse col TLT oppure le divisioni l'asse col TLT sarebbe una cosa del Movimento 5 Stelle sarebbe una cosa evidentemente interessante anche questa da vedere non credo che i 5 Stelle accetteranno una logica di questo tipo ma potrebbero anche farla perché evidentemente le sorprese da quel movimento sono continuo se non altro sarebbe un elemento di chiarezza sarebbe un asse che si porrebbe chiaramente contro la sdemagnalizzazione e la trasformazione di Portovecchio e porterebbe evidentemente i cittadini a poter scegliere in questa città tra progetti di sviluppo il nostro è quello dei tanti come noi non solamente nel centro-sinistra che sostengono che la rigenerazione di Portovecchio è una straordinaria opportunità per la città dei prossimi 20-30 anni e quelli che invece evidentemente vogliono che rimanga come è rimasto nei 20-30 anni non mi porti lontano tra poco ci arriviamo anche al Portovecchio quindi è lei che porta io la seguo quindi se io le richiedessi chi vede di là mi sembra più probabile Sandra Savino almeno nella sua percezione no 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 credo che oggi come oggi la situazione sia molto sia molto aperta ecco l'ha stupito questo appoggio di piazza o meno con Corrado questi incontri con Corrado Passera e Flavio Tosi o è normale dialogare no io penso che sia una cosa assolutamente assolutamente normali mi pare Corrado Passera è venuto a Trieste è riuscito anche a nominare fiduciaria provinciale la compagna di Roberto Di Piazza quindi in qualche modo si è dato anche un'organizzazione non credo che oggi come oggi Corrado Passera sia nell'ambito del confronto politico nazionale peraltro una figura particolarmente emergente in termini di porto una macchia che è quella diciamo del governo Monti no io non credo che porti la macchia del governo Monti vedi io credo che al di là di tutto nonostante la politica sia criticata sia mal giudicata anche per un pessimo spettacolo che la politica ha dato ai cittadini in questi anni di politica c'è bisogno e quindi a livello di leader nazionali in questo momento vedo leader nazionali che sanno fare possibilmente evidentemente buona politica ma che sanno fare politica Matteo Renzi sa fare politica Matteo Salvini supposizioni che evidentemente sono diametralmente opposte dalle mie potrei dire di cattiva politica ma sa fare cattiva cattiva politica evidentemente quindi non credo che ci sia un grande spazio per figure la Corrado Passera in questa fase Renzi verrà a Trieste giustamente ne avete già parlato penso proprio di sì ne avete già parlato sì sì mi ha detto che verrà a Trieste quando vi siete sentiti? no per dire la verità l'ho visto alla direzione del PD quella del 7 di agosto ecco quindi cosa vi siete detti? ma un saluto veloce evidentemente non è che poi con Renzi si riesca in un contesto in cui ci sono 150 persone a parlare più che tanto però ha detto che verrà a Trieste teme l'effetto Casson a Venezia? no perché penso perché comunque Casson era chiamiamola opposizione interna no il partito democratico il senatore però insomma questa figura di Brugnaro no non temo non temo l'effetto Casson perché credo che lì abbia pesato evidentemente una vicenda che in qualche modo ha allentato il legame tra gli elettori di centro-sinistra e le forze politiche di centro-sinistra in modo pesante che è la vicenda del Mose che poi è assolutamente trasversale come sappiamo ma si è appiattita a pare su più suorsoni e galande ecco credo che al di là di questo Brugnaro sia apparso probabilmente più credibile più credibile in qualche modo come figura idonea ad amministrare la città e quindi credo che il combinato disposto di queste due cose la disaffizione degli elettori di centro-sinistra qualche strascico delle primarie e un'immagine più solida da questo punto di vista di Brugnaro sia stata prevalente io ho amministrato la città per 4 anni saranno 5 quando si andrà al voto qualcuno sarà scontento io mi auguro molti saranno soddisfatti ma certo è che dire che io non possa fare il sindaco diventa abbastanza difficile in campagna elettorale c'è chi magari vorrà che io non lo faccia più ma da questo punto di vista le due situazioni mi sembrano totalmente diverse io stavo cercando ma non lo trovavo più l'articolo di quest'estate con la sua intervista perché mi ha colpito la chiusura insomma con il ballottaggio l'acceno al ballottaggio quasi certo secondo lei perché comunque sono grandi divisioni tre schieramenti almeno definiti a Trieste si è sempre andati al ballottaggio sia nelle due elezioni di Illy nelle due elezioni di Piazza oppure in una situazione di diciamo così di forte prevalenza in quel periodo 2001-2006 del centro-destra in termini di consenso politico sul centro-sinistra anche nella realtà triestina e poi nel 2011 si è sempre andati al ballottaggio quindi io realisticamente credo che il ballottaggio ci si andrà anche questa volta anche perché è inevitabile che ci troveremo di fronte probabilmente a una pluralità di candidati con una pluralità di liste di sostegno e quindi qualche anche effetto effetto dispersione poi ovviamente noi faremo in modo di arrivare al primo turno con il risultato più alto più alto possibile sì tra altre scene della Iota no sì ce ne sono state ma guardi quelle famose ma guardi siccome dice se di piazza parla con Passera e Tosi almeno anche di qua ma guardi di cene ce ne sono talmente tante nella politica che voglio dire non dovrebbe già con tutti le dici in qualche maniera anche dall'altra parte ma non dovrebbe nemmeno fare notizia del resto del resto guardi se uno vuole fare una cena di nascosto no non va là la organizza a casa di qualcuno dei commensali dei partecipanti ma può anche essere che sia stata organizzata apposta perché si sapessero non va di domenica non va di domenica nel ristorante più diciamo così più noto di Trieste e conseguentemente non si espone alla certezza di essere di essere visti semplicemente semplicemente avevamo con quel gruppo di persone poi c'è stato qualche qualche commensale in più Bandelli Rosolenna non c'erano Antonione avevamo la voglia comune di discutere di alcune questioni le abbiamo discusse come ci sono state quelle cene ce ne sono state altre con altri partecipanti con altre geometrie ma è andato a cena con Roberti eccetera con Pierpaolo Roberti candidato della Lega no non sono mai andato a cena con Roberti di piazza no perché sarebbe una notizia con di piazza abbiamo non recentemente ma abbiamo cenato insieme più di qualche volta ma quando mesi fa oppure no non recentemente non abbiamo avuto occasioni recentemente ma non avrei nessuna difficoltà a rifarlo così come non ce l'avrebbe lui da questo punto di vista io non ho difficoltà nemmeno a parlare con Roberti trovo però che Roberti e altri esponenti politici dovrebbero rendersi conto che la durezza del confronto e la durezza delle critiche non deve però far venire meno alcuni principi secondo me alcune regole regole del gioco di fondo di rispetto di civiltà perché che non si possono travalicare anche perché alla fine quando hanno sbagliato quando sono stati sopra le righe secondo lei beh insomma succede abbastanza spesso si dicono anche cose non vere quando si dicono cose non vere è già molto grave cioè dire che il comune usa soldi che sarebbero destinati ai propri concittadini per sostenere le politiche verso l'accoglienza è una cosa assolutamente falsa il comune beneficia di risorse finanziate a questo scopo dal governo e non distoglie un proprio euro dai servizi ai cittadini di Trieste come fa se le tolgono la Tasi adesso? Tasi, Imu la tolgono e il comune ha detto che tornano quei soldi Renzi ha annunciato che toglie la Tasi che trasferisce però quante volte sono state dette queste cose da diversi governi però Renzi è stato sindaco e conseguentemente ha ben chiaro secondo me fino a dove ci sono margini di razionalizzazione e di miglioramento della qualità della spesa pubblica in tutto il sistema e anche nei comuni anche se i comuni sono forse più virtuosi nel sistema pubblico italiano direi che molti tagli Renzi li deve fare ancora a livello romano e quando invece si rischia di far mancare i servizi fondamentali ai cittadini io non dubito che da parte di Renzi e da parte di altri del governo che sono stati sindaci come lui penso a Graziano De Rio ministro che conosco e stimo profondamente da sindaco e da ministro penso che questa consapevolezza non verrà non verrà meno poi abbiamo un presidente dei lanci Fassino che finora ha dimostrato di sapersi confrontare con successo con il governo senta allora torniamo sulle cose concrete visto che parlavamo di soldi spese investimenti allora uno dei giorni scorsi abbiamo raccolto diciamo alcune osservazioni anzi no questa mattina proprio la sveglia a Trieste ancora era Marino Sossi sa la voce un po' più critica nei suoi confronti anche all'interno di SEL che dice Galleria Foraggi resta ancora una condizione gravissima la cosa si è rimandata non si sta facendo eppure i soldi ci sono si è liberato il patto di stabilità per gli interventi non ha intenzione di farlo per paura di creare ingorghi e malumori a pochi mesi dal voto gliela chiedono proprio così in maniera chiara Marino Sossi talvolta è un po' approssimativo nelle sue affermazioni quindi è bene chiarire allora la Galleria di Piazza Foraggi abbiamo deciso di farla quando? ci arrivo abbiamo conseguentemente messo in moto un meccanismo per andare rapidamente alla gara per l'assegnazione dei lavori e quindi nei prossimi mesi ci sarà la gara per l'assegnazione dei lavori siccome lo strumento chiamiamolo così di esonero del patto di stabilità di cui abbiamo parlato con il governo per il 2015 non era utilizzabile per la semplice ragione che i tempi in questo caso dell'appalto che sono un appalto con progetto non c'erano partono nel 2016 abbiamo concordato con il governo di definire gli spazi di patto di stabilità in deroga gli spazi finanziari di patto di stabilità in deroga nel 2016 quindi quel lavoro partirà sicuramente nel 2016 dopo la prima parte del 2016 ma guardi partirà quando saremo pronti a partire non è cioè può essere prima del voto potrebbe essere prima del voto se chiaramente si creano tutte le condizioni però mi sembra non vada a spingere così tanto per paura di creare malumori tra gli automobilisti e i tristini perché è un impegno molto forte pur essendo forse rischioso a tenerla così ma guardi io credo che quel lavoro vada fatto vada fatto non appena ci sono le condizioni vada fatto in questo senso sta anche la specificità dell'appalto trovando anche le modalità e le misure per farlo nel più breve tempo possibile e quindi con il minor disagio possibile una semplice assegnazione dei lavori con una procedura di gara tradizionale senza perciò andare a una valutazione dei possibili miglioramenti tecnici offerti dall'appaltatore ti porta a un cantiere che dura un anno un anno e mezzo lo sforzo che si vuole fare invece è quello di stimolare le imprese che parteciperanno a offrire soluzioni tecniche e organizzative che riducano il tempo del cantiere perché un anno e mezzo di chiusura della galleria di piazza Foraggi prima o dopo il voto sarebbe un problema molto serio per la circolazione nella città senta e invece Piazza Unità in Masegni ancora una volta quante volte è stato sistemato o risistemato Piazza Unità ha un problema come è noto che è un problema per certi versi strutturale che ci troviamo periodicamente a dover affrontare purtroppo in questa fase perché le priorità e le risorse per lavori radicali sono destinate ad altro e conseguentemente un intervento radicale lì oggi non è possibile e quindi rappeziamo consapevoli che ci è stata lasciata da questo punto di vista un'eredità non proprio esaltante con che tempi insomma rapidi tra le altre cose il sollevamento di questa volta è anche meno visibile e per certi versi arrecca meno pregiudizio di quanto avvenuto in altri casi quando abbiamo dovuto addirittura transenare immediatamente per evitare possibili infortuni incidenti cose di questo tipo però sicuramente verrà fatto presto senta ho ancora un po' di cose da chiederle ma la libero la tortura possiamo continuare va bene facciamo un H24 però Piazza Ponte Rosso una delle critiche diciamo che sono state mosse più volte perché scegliere di fare i lavori da entrambe le parti della strada diciamo entrambe le parti della piazza liberando spostando poi il mercato e via dicendo ma perché non avete scelto di fare prima una poi l'altra allora innanzitutto il mercato è stato spostato in una collocazione più vantaggiosa dalla quale gli operatori non vogliono più andare via quindi per intanto possiamo accertare che anche perché ci passo spesso parlo con gli operatori e mi sento dire sindaco mi raccomando ci lasci qui perché qui si sta meglio quindi da quel punto di vista non c'è nessun danno aggiungo che abbiamo trovato soluzioni come è noto anche per gli spazi esterni dei pubblici esercizi quindi per l'occupazione di suolo pubblico per non pregiudicare per non pregiudicare totalmente la la situazione e aggiungo anche che da qui a qualche a qualche settimana mi permetterei di dire entro 3-4 settimane al massimo in anticipo sui tempi programmati dell'appalto la parte diciamo della piazza dove è collocato il mercato e dove c'è la fontana verrà completata e quindi verrà verrà riaperta quindi da questo punto di vista direi entro un mese con una buona tempistica la cosa viene risolta so che ci sono state talora lamentele e proteste per una presunta lentezza dei lavori in alcuni casi i fermi cantiere eccetera dipendono anche da verifiche della soprintendenza da problematiche tecniche eccetera abbiamo sollecitato comunque l'impresa ad accelerare e a consegnare conseguentemente prima possibile almeno quella metà quella metà della piazza che peraltro si comincia già a intravedere sarà una piazza molto bella 3-4 settimane di anticipo e questa è anche una notizia quindi fra 3-4 settimane sarà riaperta cosa è successo in Porto cioè dialogando giorni scorsi con D'Agostino si diceva qua non avveniva non c'era uno sciopero da tempi immemori insomma diciamo però a fin fine qualche sciopero qualche protesta c'è sempre stata adesso questa forzatura con lo abbiamo detto più volte sottolineato un testo una proposta che era stata accolta dall'autorità portuale però rigettata lo stesso e poi firmata pressoché uguale dopo la protesta insomma dopo questa forzatura da parte degli scioperanti lei come ha interpretato quei giorni? Qualcuno ha strumentalizzato ragioni anche di malessere che ci sono tra i lavoratori perché è indiscutibile che qualche ragione di malessere ci dovesse essere anche se mi risulta che D'Agostino e in particolare Sommariva stessero e stanno lavorando evidentemente per costruire un clima anche di relazioni industriali di relazioni sindacali dentro il porto che sia migliore anche per le condizioni dei lavoratori quindi alla fine faccia star meglio tutti le imprese e i lavoratori qualcuno ha voluto strumentalizzare quella situazione per raggiungere un obiettivo politico e quindi nonostante avesse ottenuto le risposte alle richieste sindacali perché questo è il mestiere di chi dice di rappresentare i lavoratori nei confronti delle imprese davanti alle istituzioni avesse ottenuto risposte positive le richieste sindacali ha voluto forzare a tutti i costi anche perché evidentemente la cosa non dimentichiamo c'era nata qualche giorno prima con il vestito del mitico allegato ottavo e con un'aggiunta poi di rivendicazioni sindacali per dare un senso evidentemente si preparano al voto ma io credo che siano preparati intanto a fare un favore a Capodistria che non vuol dire che se ci sono ragioni oggettive non si deve scioperare perché scioperando si lavora la concorrenza però lei dice hanno favorito Capodistria sarebbe del tutto sbagliato che io tra l'altro persona che per cultura personale riconosce pienamente il diritto dei lavoratori a scioperare a protestare a chiedere che c'è una cosa simile ma quando lo sciopero è inutile perché hai già ottenuto quello che firmerai due giorni dopo avendo scioperato e lo fai quindi senza motivi e provochi in qualche misura un pregiudizio all'attività di questo porto che può avvantaggiare il concorrente qualcuno sulla pelle del porto di Trieste e dei lavoratori ha cercato di ricostruirsi e di riaprirsi uno spazio politico lei dice comunque Capodistria è stata favorita da questo beh inevitabilmente senta Punto Franco dove lo vorrebbe? Dove serve? Agli operatori portuali credo che siano loro i più idonei e infatti in questo senso mi pare stanno collaborando sia con D'Agostino sia con il commissario di governo a dire a dire dove è utile per là dove c'è manifattura soprattutto è utile per le attività portuali e per le attività legate al porto io ho solamente sottolineato che dove è il Punto Franco adesso in Portovecchio mi pare che da un po' di tempo non stia servendo assolutamente a niente non ne ho mai proposto la soppressione e quindi anche qui basta con le bugie di quelli che dicono vogliono togliere il Punto Franco vogliono sopprimere il Punto Franco eccetera vogliamo semplicemente che il Punto Franco se ne vada da un posto che non è più porto non è più spazio logistico non è più spazio retroportuale industriale e se ne vada dove può servire a quel tipo di operazioni il canale del Noguere giusto potrebbe essere ad esempio il canale navigabile le Noguere le parti di espansione previste dal piano regolatore lei avrebbe una preferenza? no no le ripeto perché io trovo giusto che di sostenere le soluzioni che operatori portuali operatori della logistica e autorità portuale ritengono le più donne senta Barcolana come siamo messi? bene tutto pronto? a parte che c'è la novità insomma che si sa il trenino diciamo da Porto Vecchio al parcheggio sarà parcheggio lo stesso Porto Vecchio insomma si sta lavorando in modo quarto ci saranno attività in più si sta lavorando evidentemente perché la manifestazione sta crescendo in modo così straordinario che il sistema di servizi e anche di viabilità di quelle giornate va progressivamente rivisto vogliamo evitare intasamenti vogliamo evitare una concentrazione spaventosa di macchine verso zone dove non troveranno parcheggio e quindi vorremmo creare la possibilità che quell'evento si svolga come dire nel modo più arioso e spazioso possibile fornendo quindi una serie di servizi di cintura che un po' decongestionano decongestionano la zona cruciale della manifestazione quindi rive via di accenti sarà una grande sarà una grande festa come sempre sarà una festa anche che si estende ci sono nuovi operatori commerciali nuovi ristoratori che ci propongono idee per quelle giornate stiamo lavorando con loro e quindi sarà un'occasione per concludere in maniera straordinaria quella che mi si consenta di dire è stata una stagione turistica straordinaria per Trieste sarà a bordo da turista o da velista quest'anno? ma io non sono un grande velista anzi per chiederle su quale barca potrei dire che non lo sono quindi se trovo qualcuno che fa la barcolana con lo spirito lo spirito diciamo un po' triestino della barcolana quindi in tutta tranquillità magari bevendo un bicchiere di vino e senza vellità agonistiche evidentemente vado volentieri in una barca che fa la la competizione altrimenti ad esempio l'altro anno ho deciso di rimanere a riva e di passeggiare e di passeggiare tra la gente e sentire gli umori a chi si affolle a guardare la regata trovo molto meno divertenti le barche che accolgono le persone a bordo per andare a vedere la regata se poi non c'è vento si è ostaggi però senta sindaco le chiedo un'altra cosa che è un po' distante le persone fanno fatica credo i cittadini anche per noi stessi a comprendere ma queste unioni territoriali inizialmente le osservazioni erano che Trieste sarebbe diventata ostaggio con voti praticamente equanimi dello stesso peso ostaggio dei comuni inferiori dei comuni minori comuni minori per carità ora c'è l'opposizione addirittura di Sandor Ligo a cui non piace Sgonico se non ricordo male negli ultimi giorni a cui queste unioni territoriali non piacciono le due cose come dice lei non stanno molto bene assieme esatto se Sgonico e Sandor Ligo pensassero di poter comandare su Trieste come dice qualcuno dei miei avversari del centro-destra non avrebbero tutta questa ritrosia a questa opposizione quindi la realtà è probabilmente un po' diversa cosa pensa lei? ma guardi io penso in via preliminare questa è una riforma regionale e quindi è stata inevitabilmente studiata e costruita su una situazione tipica della regione rispetto alla quale noi siamo un po' un'anomalia nel senso che noi siamo un'anomalia nella misura in cui quella che dovrà essere l'unione territoriale Giuliana non è composta da un gruppo di comuni simili paragonabili o da una situazione in cui almeno 4 o 5 comuni assieme pesano come il più grande qua siamo in una situazione in cui un comune pesa per l'86% e 5 comuni assieme pesano per il 14% quindi lo sforzo di adattamento dell'istituto dell'unione a queste caratteristiche del nostro territorio non è stato uno sforzo facile ne siamo usciti fondamentalmente con alcune misure la prima quella di un regime differenziato per cui Trieste continua a gestire per conto proprio in assoluta autonomia tutte le cose dalle quali non avrebbe alcun beneficio se fossero trasferite all'unione anzi probabilmente avrebbe un appesantimento burocratico e su queste cose servizi sociali servizi educativi opere pubbliche piano regolatore Trieste fa per conto suo e lascia che gli altri comuni si mettano assieme perché invece quei 5 ha senso che si mettano assieme ne siamo usciti con un sistema che prevede evidentemente in ogni caso che non esiste una maggioranza senza il comune di Trieste e che dice questo dice una cosa smentita dallo statuto perché l'abbiamo fatta se votano loro in un senso e Trieste possono mettere minoranza l'unica a opporsi Trieste non può essere minoranza e perché l'abbiamo fatto si dirà l'abbiamo fatto perché sparendo le province una dimensione istituzionale di relazioni tra Trieste e i comuni circostanti serve anche al territorio di Trieste che non può concepirsi come un soggetto assolutamente chiuso in se stesso ed isolato per politiche di promozione turistica per servizi che si possono integrare rivolti ai cittadini per politiche di trasporto per cooperazione anche trasfrontaliera e quindi valeva la pena di cominciare a lavorare assieme anche magari per superare delle diffidenze che ci sono che in qualche modo permangono perché i comuni piccoli hanno paura come dice lei anche in questi giorni lo si sente di essere fagocitati dal comune di Trieste Trieste deve dimostrare di non voler fagocitare di voler offrire il peso della sua maggior rappresentatività della sua maggior forza e anche del suo più forte bagaglio professionale per migliorare tutti due cose flash davvero anche se siamo arrivati tardi su questo abbiamo raccontato un po' il degrado in Villa Cosulic ha visto il servizio ne hanno detto ne hanno riferito c'è qualcosa che si può fare si può fare noi stiamo facendo una quantità come si vede di lavori pubblici avendo trovato con il famoso stratagemma diciamo della garanzia delle azioni era che poi come si è visto nemmeno vendiamo se non in misura poco significativa ma ci è servito per partire un piano di opere pubbliche molto massiccio siamo partiti dalle emergenze le scuole le situazioni evidentemente maggiormente più critiche e progressivamente no ma inevitabilmente anche con una certa gradualità le affrontiamo a tutte e quindi tocca anche a Villa Cosuli cosa lo chiedo spesso diciamo ci provo ci pensi intanto che è così da molti anni però da ben prima della sua amministrazione ok sta pensando intanto gli chiedo un'altra cosa se ancora ci vuole ragionare a una possibile proposta shock si ricorda anni fa quando parlavamo della proposta shock di Berlusconi che poi era l'Imo la fin fine però togliere l'Imo lei sta pensando a una cosa che dirà annuncerà proporrà nei prossimi mesi lei vuole l'anteprima diciamo che l'avviserò quando è pronta però ci sta pensando quindi vuol dire e quindi già non posso promettere abolizioni dell'Imo nemmeno della Tasi ma qualche proposta forte e positiva per la comunità la stiamo costruendo sì va bene quindi una proposta shock ci sarà e non abbiamo detto nulla della ferriera senza che gli shock siano positivi sì ma quello sì sarà ma della ferriera guardi io comprendo lo dico anche qui in questa sede comprendo l'inquietudine l'impazienza e anche la rabbia di chi da troppi anni attende soluzioni e so che dire abbiate pazienza no è più facile da dirsi che da comprendersi e da accettare però oggi siamo in una situazione in cui un imprenditore che comunque non ha causato lui quella situazione l'ha trovata sta facendo degli interventi io sono ancora fiducioso sul fatto che questi interventi saranno fortemente migliorativi e comunque la verifica in questo caso non è fra due anni fra tre anni fra quattro anni i cittadini potranno giudicare nei prossimi nei prossimi mesi questo è un fatto nuovo anche perché è un fatto certo nei prossimi mesi si potrà giudicare se quel piano va avanti e consente di continuare l'attività dell'aria caldo oppure no e se si imbocca un'altra strada è molto meglio trovarsi in questa situazione che trovarsi nelle situazioni viste nel 2001 nel 2006 o nel 2008 dove promette qualcuno di chiudere la ferriera poi fa passare cinque anni e non succede nulla non l'ho chiesto l'ultimissima cosa davvero dice qualcosa ai cittadini di Valmaura di stare tranquilli ha detto prima ai cittadini di Valmaura dico che la cosa viene organizzata con tutti gli strumenti e tutte le cautele che abbiamo utilizzato in altre parti della città oserei dire con una maggior mobilitazione di mondo del volontariato e di protezione civile quindi con una rete di supporto di sostegno e di monitoraggio ancora maggiore e che conseguentemente che conseguentemente credo che non ci sarà nessun disagio effettivo e in ogni caso in ogni caso affronteremo tempestivamente tutte le problematiche che eventualmente dovessero presentarsi ma sono fiducioso che non ce ne saranno e dico l'ultima cattività sai che io riporto le voci sempre ma l'ho chiesto anche al senatore russo quindi che lui sarebbe stato il candidato sindaco al suo posto e per lei c'era il posto invece al porto questa sala era una delle voci che girava in mese scorsa l'ho sentita dire anche questa vede me la cavo anch'io con una battuta sicuramente dal punto di vista economico cosa con la quale uno forse nei 59 anni dovrebbe anche fare le andrebbe molto meglio sarebbe sicuramente molto conveniente e ciò nonostante dico subito che faccio molto più volentieri il sindaco della città di Trieste perché è una città che amo perché mi sono innamorato delle cose che facciamo e del progetto che abbiamo e sono evidentemente determinato a portarle avanti e soprattutto prepara la proposta shock che annuncerà per la prima volta Ringa questo ormai ormai l'ha detto ormai l'ha detto va bene grazie Roberto Cosolini grazie bocca al lupo per i prossimi mesi trepi il lupo e buonasera buonanotte ai telespettatori grazie a voi per averci seguito restate su Tele4 per averci seguito Grazie a tutti.